Buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi. Devo dirvi che per me personalmente, ma credo per tutti noi, è un onore poter incontrare il professor Rodotà per quello che significa per questo Paese e per l'apporto che ha dato al dibattito sui temi fondamentali della nostra convivenza civile. Non vi porto via altro tempo, adesso il sindaco farà un breve saluto, poi il professore introdurrà gli argomenti di cui parleremo stasera e poi ve lo dico fin da adesso, il professore ci ha detto disponibile a rispondere a tutte le vostre domande, per cui cercheremo di tenere la serata in qualche modo viva, attiva e partecipata. Grazie ancora e un applauso al professore. Sindaco, a lei. Si mancì un breve saluto per poi le cose importanti e interessanti, si svilupperanno all'interno del dibattito, ma intanto ci tenevo a ringraziare il professore Rodotà che ha accettato il nostro invito all'interno di queste tre giorni, anzi quattro se contiamo oggi, legate ai diritti, quindi legate al parlare di tutte quelle tematiche che, ci dicevamo oggi col professore, stanno affrontando più i comuni che non i governi, perché sono un po' quelle tematiche ovviamente che fanno discutere, come la bigenitorialità, il testamento biologico, tutti i temi legati anche alle unioni civili, tematiche che probabilmente in Italia sentiamo parlare da anni e in anni non si è mai trovata poi una soluzione, comunque non si è presa una direzione precisa, proprio perché insomma sono temi legati alla propria coscienza e quindi a quello che si fa della propria vita, motivo in più per trattarlo nei comuni, tante volte senza una possibilità ovviamente di legiferare, ma di tenere, di dare la possibilità ai cittadini di attivarsi, di accedere ad elenchi che comunque potrebbero servire all'interno dello scorrere della propria vita. Sono tematiche importanti, cerchiamo come Comune di essere all'avanguardia di questi temi, quindi alcune delibere che noi stiamo, che abbiamo approvato, che stiamo approvando penso nessun Comune in Italia le abbia, speriamo di essere anche un esempio per altri Comuni che si vogliono attivare e creando quindi un peso, un peso politico rispetto ai governi che sono in arrivo o comunque che arriveranno in futuro per fare in modo che i Comuni vengano sono ascoltati, perché sempre di più il lavoro dei sindaci, delle amministrazioni è quello di avere un rapporto diretto con i cittadini, quel rapporto che si perde via via allontanandosi dal punto in cui i cittadini riescono a farsi ascoltare perché Roma è molto lontana, mentre noi tutti i giorni siamo chiamati a interloquire a risolvere i problemi e quindi è per questo che ce ne facciamo carico ben volentieri tutti i giorni. Quindi lascio la parola nel salutarvi tutti al professor Stefano Rodotà che penso ci darà tanti validi spunti anche per riflettere rispetto al percorso che abbiamo intrapreso come città. Grazie. Io ringrazio molto il Comune di Parma per questo invito. Io vorrei fare un ringraziamento ulteriore, un ringraziamento come cittadino nel senso che quello che ha appena ricordato il Sindaco. Oggi si usa l'espressione non molto elegante pacchetto, ma il pacchetto di iniziative di questo Comune nella materia dei diritti civili è molto significativo ed è significativo in particolare perché nella dimensione comunale in questi ultimi anni è venuta emergendo proprio questa sensibilità per cui anche altri Comuni hanno intrapreso iniziative analoghe, simili, soprattutto sulle questioni delle unioni civili e dei testamenti biologici, ma qui c'è già un tentativo, se così posso dire, di carattere generale di vedere che cosa. Ecco il punto sul quale io penso si debba richiamare l'attenzione perché in questi anni bisogna essere sinceri. Il tema dei diritti civili è stato sostanzialmente abbandonato dalla, non dico dalla politica ufficiale, ma certamente dal Parlamento e dai governi. Io mi permetto di fare un riferimento, non perché io sia nostalgico della Prima Repubblica, ma non possiamo neanche tagliare la storia d'Italia a fette, per cui a un certo punto tutto quello che è avvenuto prima di una certa data non va bene. Allora, permettetemi di ricordare che nel 1970 in un solo anno furono approvate l'ordinamento regionale ordinario, la legge sul divorzio, la legge sul referendum e lo statuto dei lavoratori. Fu cambiata la faccia dell'Italia, fu cambiata la faccia dell'Italia perché ci fu il decentramento regionale, perché i cittadini ebbero finalmente nelle loro mani uno strumento come il referendum, che è stato ampiamente significativo nella storia d'Italia, perché le persone sono state liberate da un vincolo coatto, quello del matrimonio indissolubile, perché c'è stato un riconoscimento pieno istituzionale dei diritti dei lavoratori. Non era finita lì, perché negli anni successivi abbiamo avuto le norme sulla parità nel lavoro donne e uomini, sulla carcerazione preventiva, il nuovo processo del lavoro, la riforma del diritto di famiglia, la scuola media unica, il servizio sanitario nazionale, la legge sull'interruzione della gravidanza. Quindi in quegli anni l'Italia cambiò molto attraverso i diritti civili, per un gioco combinato di una politica che guardava la società, di una società che si mobilitava, di una cultura che non era assente e quindi c'è stato un cambiamento molto forte. Perché tutto questo percorso è stato abbandonato o è divenuto impossibile nel ventennio che abbiamo dietro le spalle? Io lascio a voi dare la risposta a questa domanda. Io registro questo fatto e pongo un ulteriore interrogativo. È possibile una politica costituzionale in materia di diritti civile e perché di fronte al blocco sostanziale al livello di Parlamento e di governo abbiamo questa fioritura di iniziative da parte dei comuni? Questa è una questione che io cerco di essere il più rapido possibile perché, ripeto, credo che siamo tutti interessati nel registrare le vostre reazioni e le domande. Il punto interessante è che in questi anni sembrava e ancora è in parte così che al silenzio del Parlamento e del governo rispondeva una voce molto netta e per fortuna in particolare della Corte Costituzionale e altri organi giudiziari che invece si davano carico della necessità di riconoscere quei diritti civili che erano stati negati oppure non venivano presi in considerazione. Sembrava che ci fossero solo queste due polarità, il silenzio istituzionale classico e l'attivismo o la consapevolezza degli organi giurisdizionali. Questo dualismo negli ultimi anni si è venuto, non dico che sia scomparso, rimane, ma si è venuto attenuando perché è nata questa terza dimensione che evidentemente è legata a quella che si può chiamare, termine non è tutt'altro che nuovo, democrazia di prossimità. Ci sono istituzioni che si confrontano continuamente o che pensano di doversi confrontare direttamente con la vita materiale delle persone perché sono obbligate a farlo, perché i cittadini sono lì, spesso intervengono. È inutile perché poi non c'è una legge che dia un sostegno alle loro iniziative. Non è così. Io faccio un solo esempio che riguarda, devo dire queste delibere sono scritte nella logica proprio, lo dirò subito, della politica costituzionale, ma faccio un solo caso. Il registro dei testamenti biologici. Si dice ma non c'è una legge e c'è chi dice ma queste sono prese in giro, non servono assolutamente a nulla. Questa è una grande stupidaggine perché chi tra voi ricorda quello che è stato un momento di grande divisione, di grande dibattito pubblico, purtroppo condotto con toni e con argomenti non adeguati alla gravità della situazione, cioè quello riguardante Eluana Inglaro, dovrebbe ricordare che il punto controverso, quale fu? Si disse ma la ricostruzione della volontà di Eluana Inglaro sulla quale suo padre fondava la richiesta di sospensione delle cure, questa è una ricostruzione tutta congetturale, non abbiamo la certezza che quello sarebbe stato effettivamente il risultato che lei voleva. Questo è stato un punto chiave della discussione da parte di coloro i quali contrastavano l'inizio, iniziativa del padre e soprattutto criticavano la sentenza della Cassazione che aprì poi la strada alla possibilità dell'interruzione delle cure. Bene, l'esistenza di un testamento biologico depositato presso un'istituzione pubblica avrebbe cancellato questo argomento, quindi non è vero che anche in assenza di un quadro normativo centrale che io mi auguro ci sia con la giusta cautela, lo dirò in questa materia, le iniziative della democrazia di prossimità e cioè dei comuni sia del tutto indifferente. Non è così. Se io ho avuto la fortuna di poter leggere attentamente le delibere in questa materia del comune, come ho letto quelle di altri comuni, ma per esempio la questione riguardante le unioni civili ha una grande importanza, un'importanza simbolica molto significativa, perché di fronte a un tema divisivo dal punto di vista ideologico, ma rispetto al quale ormai non solo avanza una consapevolezza nuova nella società, cioè le unioni civili è detto esplicitamente che riguardano sia persone di sesso diverso sia persone dello stesso sesso. Guardate che questo è non solo un punto importante, ma un punto simbolicamente significativo, perché noi sappiamo che negli ultimi anni purtroppo nel nostro Paese sono tornate, sono riemersi quelle che sembravano ombre o fantasmi che eravamo riusciti a riscacciare sullo sfondo e che si chiamano come? Si chiamano razzismo, si chiamano antisemitismo, si chiamano omofobia, si chiamano misoginia, le parole violente contro le donne. Bene, che le istituzioni pubbliche si allontanino da questa deriva pericolosa e diano un segnale forte in questa direzione, questo è enormemente importante, perché vuol dire che le istituzioni non si riconoscono, non basta dire a parole l'Italia non è un paese razzista, omofobo, non è vero poi, perché al fondo queste cose le troviamo e se le istituzioni, ripeto quelle più vicine ai cittadini, scelgono questa strada non c'è solo un simbolo, c'è un'indicazione culturale e badate che la cultura non è una parola che noi dobbiamo appiccicare in alcune situazioni. Io dico sempre, lo ripeto qui, la cattiva politica è sempre figlia di cattiva cultura. Su questo non è una rivendicazione di un signore che ha fatto solo l'accademico, perché voi sapete che ne ho fatte di tutti i colori nella mia vita e quindi nel mondo della politica ufficiale ci sono stato abbastate. Quindi questo è un discorso secondo me importante ed è importante per un'altra ragione, perché se voi scorrete con attenzione queste delibere, voi trovate che cosa? Trovate non solo che in qualche modo e in modo molto netto ci si allontana dal disinteresse che soprattutto vede responsabilità del Parlamento, ma tutto questo non accade attraverso una sorta di pretesa e una invasione di campo da parte dei comuni. Perché se voi leggete per esempio la delibera che riguarda le unioni civili, voi trovate, citate due importantissime sentenze, una della Corte Costituzionale e una ancora più coraggiosa della Corte di Cassazione, che dice che le unioni di fatto civili, sia persone dello stesso sesso, sia da persone eterosessuali, debbo, hanno già un riconoscimento nell'articolo 2 della Costituzione quando parla di formazioni sociali e che quindi le persone che costituiscono queste unioni civili hanno dei diritti fondamentali, queste sono le parole che voi trovate scritte in queste sentenze, Corte di Cassazione, Corte Costituzionali, hanno dei diritti di cui deve essere assicurata la garanzia. Questo è qualcosa di molto importante e nel silenzio parlamentare, guardate che c'è un'espressione che ricorre nella Costituzione e cioè ci sono dei doveri che ha la Repubblica. La Repubblica non è un'entità a strazza, perché se voi leggete il non felice articolo 117 della Costituzione, voi trovate scritto che la Repubblica è formata da comuni, province, regioni e dallo Stato. Quindi i comuni sono un pezzo della Repubblica che è destinatario di doveri o di obblighi riguardanti proprio l'attuazione di diritti fondamentali. E quindi c'è un percorso che è già indicato, non è una pretesa. Noi abbiamo dei grandi e inquietanti silenzi, ripeto, di fronte al fatto, per esempio, che non solo non ci sono stati interventi a favore dei diritti civili, ma ci sono stati interventi legislativi che, io dico solo ideologicamente molto connotati, hanno ridotto i diritti civili. Ne cito due. La legge 40 in materia di procreazione assistita e la legge cosiddetta finigiovanardi in materia di immigrazione. Queste due leggi sono state oggetto oggetto di sentenze della Corte Costituzionale che ne ha messo in evidenza l'assoluta illegittimità in punti chiave. Ora, di fronte a questi interventi della Corte Costituzionale, ripeto, è inquietante il fatto che non ci sia stata una risposta parlamentare. La legge sulla procreazione assistita, sull'accesso alle tecniche di procreazione assistita, è stata oggetto di sentenze demolitorie da parte della Corte Costituzionale e di corti internazionali. Un Parlamento consapevole. Io non sono abituato a parlare in modo diplomatico e quindi dico le cose come stanno, non solo come io le penso. In qualsiasi Paese in cui ci fosse una sensibilità adeguata in sede parlamentare, il primo problema che si doveva porre il Parlamento era quello di dire, beh, dopo queste sentenze della Corte Costituzionale che cosa facciamo? Anche perché c'è un passaggio tecnico. Io ho fatto per 15 anni il parlamentare, sono stato membro della Commissione Affari Costituzionali e so perché è previsto che le sentenze della Corte Costituzionale vengono mandate alle Camere e le quali Camere hanno il potere di discutere le sentenze. Il che vuol dire, questo non è un passaggio formale, non è che c'è un passacarte e in passato ci sono stati casi, io me lo ricordo bene, perché sono stato anche relatore in questa materia in cui il Parlamento diceva sì, c'è questa sentenza importante, discutiamole. Non è avvenuto in questi anni, cioè si è girata la testa dall'altra parte. Allora che ci siano delle istituzioni che non girino la testa dall'altra parte mi sembra particolarmente importante un fatto positivo che ci offre anche una possibilità di uscire da questa condizione, devo dire, un po' di impotenza e un po' di lamento o di sola polemica e ci dice guardate quella dei diritti civili è una strada che può essere percorsa e se si crea un'alleanza virtuosa tra le norme della Costituzione, le istituzioni che di questo si preoccupano e le istituzioni che incarnano una democrazia di prossimità, possiamo avere degli effetti positivi. Chiudo perché ho già parlato abbastanza, poi avremo possibilità di integrare le infinite lacune di questa mia chiacchierata con le domande, però due cose le vorrei ricordare. Qui se voi seguite l'iter disegnato da queste delibere, voi vedete che c'è in primo luogo qualcosa che riguarda la vita delle persone, il fine vita e badate non la morte, la morte è un evento naturale, ma il morire appartiene alla vita e appartiene dunque alla determinazione delle persone, anzi all'autodeterminazione, perché l'autodeterminazione delle persone è stata riconosciuta alla fine del 2008, da una sentenza della Corte Costituzionale dicendo che ci sono in questa materia due diritti fondamentali, il diritto alla salute, e questo era già scritto nella Costituzione, che la salute è qualificata come diritto fondamentale, poi il diritto all'autodeterminazione delle persone. Dunque quello è un momento, quello del decidere sul fine vita affidato all'autodeterminazione delle persone. E qui poi dirò una parola su questo. Secondo, il vivere, il discorso sulle unioni civili è fondamentale perché come io costruisco le mie relazioni personali e ho a disposizione una molteplicità di strumenti, ma non perché ci sia una forzatura da parte di qualcuno, perché ci sono le decisioni della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, ma c'è anche l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che mette il matrimonio e le altre modalità di costituzione di una famiglia sullo stesso piano ed elimina la distinzione tra unioni tra persone dello stesso sesso e persone di sesso diverso. Quindi c'è un'indicazione importante che in questo momento è raccolta più dalle istituzioni locali che non dalle istituzioni nazionali, ma l'oggetto dell'attribuzione, della considerazione di queste categorie di diritti, estremamente importante perché ciascuno possa più liberamente governare la propria vita come vuole la Costituzione. Perché l'articolo 32 della Costituzione, mi permetto di fare una citazione ma perché la ritroviamo nella delibera, si chiude con queste parole, la legge non può in alcun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, il che vuol dire che neanche il legislatore quando è in questione il rispetto della persona umana può imporre il suo punto di vista. Questo è un punto assolutamente originale della Costituzione italiana, non lo ritrovate in nessun'altra Costituzione e mette al centro l'importanza della persona umana, la sua dignità e la sua autodeterminazione. Secondo punto, ma c'è un punto che vorrei dire e che riguarda la condizione effettiva in cui è il limite, è il problema, è la difficoltà che incontrano le istituzioni, soprattutto quelle di prossimità ai comuni. Io ricordo bene, sono stato relatore in un organismo dell'Unione Europea sul punto della diagnosi prenatale, non la diagnosi preimpianto che è una cosa più complicata. E cioè il problema voi sapete qual è. Che cosa succede quando da una coppia viene comunicato sulla base della diagnosi prenatale che la persona che nascerà può avere determinati difetti, malattie e via dicendo. Quando si esce da una discussione puramente ideologica, cioè dire ah ma la vita è un valore che deve essere in tutti i casi salvaguardato, oppure ecco, se si esce da tutto questo, quali sono le conclusioni? Noi abbiamo fatto un'indagine conoscitiva, abbiamo sentito a Bruxelles tutta una serie di organizzazioni anche di singole persone i cui casi erano divenuti importanti a livello nazionale o a livello locale, ma significativi e la conclusione forse la potevamo trarre senza bisogno di fare questo tipo di indagno. E cioè, a parte i casi estremi, gravi, nella media dei casi, cioè quando viene comunicato qualcosa che è molto significativo, ma accettabile, uso questa espressione, con molto timore perché quando parliamo della vita delle persone dobbiamo stare estremamente attenti nella scelta delle parole. Comunque qual era la risposta delle coppie? Era questa. se noi disponiamo della sicurezza che ci viene dalle istituzioni pubbliche, che per la persona che nascerà con una qualche disabilità avremo un sostegno, la propensione a non interrompere la gravidanza cresce in modo esponenziale. Perché ci veniva fatto un discorso molto banale, se c'è una coppia che vive o sopravvive perché le due persone che la compongono lavorano entrambe, e se nasce una persona con disabilità che ha quindi bisogno di essere accompagnata e accudita da una persona. Beh, a questo punto qual è il problema? Uno dei due dovrebbe lasciare il lavoro. E quindi ci sarebbero meno risorse di prima, ma meno risorse dal punto di vista comparativo molto più drammatiche perché c'è una persona ulteriore che deve essere accudita. laddove ci sono questi servizi, che significa subito dopo la nascita, inserimento nella scuola, opportunità nel mondo del lavoro, perché queste non sono persone che poi debbono essere liquidate con una mossa ideologica ai margini della società. La propensione a mantenere tutto questo, a mantenere, cioè ad accettare la nascita di questa persona, cresce. Secondo caso, la vicenda di Eluane Inglaro, di nuovo discussa in astratto. Certo che ci sono, rispetto a un caso noto, poi ci sono i numeri oscuri, perché questa è una materia nella quale, ahimè, anche qualche illustre, si fa per dire, opinionista di grandi giornali, in realtà che cosa disse al padre di Eluane Inglaro. Insomma, perché lui ci aveva scocciato e ci aveva messo di fronte a questo problema difficile, quando non sarebbe stato impossibile per lui trovare dei medici non compiacenti, ma dei medici simpatetici che avrebbero senza tanto clamore potuto concludere la vicenda. Come accade, badate, come accade, non voglio dire ordinariamente, ma come accade nelle... c'è stata una ricerca fatta molti anni fa in un luogo non sospetto, e cioè la facoltà di medicina della Università Cattolica di Roma, dove i medici dissero esplicitamente che in tutta una serie di situazioni loro, con il consenso dei familiari, intervenivano. Allora, Beppino Inglaro non ha accettato questa via sotterranea, solitaria e ipocrita, ha voluto fare una battaglia di legalità. Però è vero che ci sono moltissime persone che vivono presso le loro famiglie, se possibile, e che invece le famiglie vogliono che sopravvivano il più possibile. E anche qui però c'è un problema di risorse, perché in un paese non così diverso dal nostro, come la Francia, in situazioni in cui c'è un fine vita simile a quello di Eluana Inglaro, più o meno, se uno dei familiari decide di seguire questa persona, perché è molto importante anche per gli equilibri complessivi che queste persone possano rimanere, se possibile, in famiglia, riceve una indennità perché possa farlo, altrimenti o le persone abbandonano il lavoro e quindi privano se stessi e la famiglia di una fonte di reddito. Ecco, questo è un modo non ideologico di affrontare la questione. Lo Stato certo che deve intervenire, ma non per proibire, per ridurre l'autodeterminazione, ma per sostenere esattamente le persone che vogliono autonomamente determinarsi o che vogliono che i loro familiari le accompagnino, dotandole delle risorse necessarie. Perché ho ricordato tutto questo? Perché l'azione pubblica è una cosa complicata e però chiama direttamente in causa, soprattutto per quanto riguarda i servizi alla persona, i comuni. Nel momento in cui si riducono le risorse, ne soffrono enormemente i diritti delle persone. I diritti delle persone che poi sono il diritto all'istruzione, che sono l'accesso alla salute. Il Comune di Napoli, che non è un modello per quanto riguarda il bilancio, forse avrete letto negli ultimi giorni notizie giustamente allarmanti. Però nella primavera scorsa, e chiudo con questo esempio, così ci intendiamo un po' meglio, si trovò di fronte a questa situazione. Mancavano 300 insegnanti per le scuole per l'infanzia. E a questo punto l'assessore competente disse assumiamoli facendo un'operazione prendendo da altri capitoli di spesa questo denaro. Il sindaco sa che in relazione al patto di stabilità queste operazioni non sono possibili. E allora questa cosa è andata sul tavolo del procuratore della Corte dei Conti per la Campania, il quale si trovò doveva esaminarla perché se questa delibera fosse stata illegittima avrebbe detto all'assessore i 300 insegnanti li paghi di tasca tua. Che ragionamento ha fatto? Ha detto che qui siamo di fronte a un diritto fondamentale della persona. Perché le bambine e i bambini hanno diritto per la loro formazione, per la libera formazione della loro personalità, quella di cui parla l'articolo 2 della Costituzione, in primo luogo della istruzione. E quindi il vincolo, il puro vincolo economico di fronte a diritti fondamentali delle persone deve cedere. Questo è un fatto sul quale dobbiamo riflettere e sul quale voi direte la Germania è più ricca. Ma la strada è questa perché si sta stabilendo, e in pratica è già stato stabilito, che proprio per quanto riguarda la prima fascia scolastica, i comuni non possono più dire non ci sono i posti all'asilo. Perché a quel punto i genitori possono rivolgersi al giudice che dirà voi i posti li dovete trovare. Allora vedete come il gioco tra diritti fondamentali della persona misurati non in astratto, ma misurati sui bisogni, sulle necessità della vita materiale, ruolo delle istituzioni di prossimità, dunque dei comuni e risorse. E oggi è un tema di cui noi non possiamo liberarci con una mossa astratta dicendo ah ma non ci sono le risorse. Ma nel momento in cui noi dobbiamo ripartire le risorse anche scarse, noi dobbiamo mettere al primo posto la necessità di salvaguardare i diritti. E salvaguardare i diritti è anche qualcosa che riguarda il rispetto della vita. Guardate che il diritto del lavoro, faccio una ultima piccola digressione, il diritto del lavoro è stato un modo per riconnettere lavoro e vita. Se voi leggete l'articolo 36 della Costituzione e il linguaggio della Costituzione è straordinariamente eloquente. E lì è scritto che la retribuzione deve garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Quando la retribuzione scende sotto una certa soglia o diviene qualcosa che viene imposta unilateralmente da una parte, questo nesso si spezza perché vuol dire che la retribuzione non è più misurata sulle esigenze della vita libera e dignitosa, che è la bussola costituzionale. E quindi chi opera invece sul terreno del pieno riconoscimento dei diritti delle persone, in questo modo segue l'indicazione alla quale nessuna istituzione può sottrarsi di garantire a tutti i cittadini la vita libera e dignitosa. Questo mi pare il tema di queste delibere che poi, voi sapete, toccano punti chiave poi dalla donazione di organi, il parto in casa, il conferimento della cittadinanza civica. E noi abbiamo in questo momento classi sempre, queste sono le statistiche ultime, classi sempre più multietni, un aluno su dieci di origine straniera ma la metà è nata in Italia. Pensate che con questo tema non ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo rimuovere una serie di ostacoli ideologici e dare un segnale che sarà simbolico ma è molto importante. Noi non pensiamo che in questo momento il gioco partecipativo non sia importante. A Bologna nei giorni scorsi è stato presentato d'intesa con un'associazione che lavora su questi temi quello che è chiamato regolamento sull'amministrazione condivisa per avere un gioco virtuoso tra amministrazione e cittadini proprio su questi terreni. Credo che questa sia oggi una strada sulla quale dobbiamo riflettere molti e io sono grato che questo invito mi abbia obbligato a ripensare molte cose anche se io sono un vecchio maniaco dei diritti, questo è un mondo nel quale ogni volta che ci si avvicina si scopre qualcosa di nuovo. Quindi grazie. Grazie professore. Credo che le parole del professor Rodotà oltre a far piacere a tutti noi abbiano in qualche modo gratificato molto il vice sindaco Nicoletta Paci che su queste delibere ha lavorato tanto e che è un po' il motore anche di questo incontro. È vero vice sindaco? Sì ma grazie mille e buonasera a tutti. È stato molto bello ascoltare quello che il professor Rodotà ha detto anche perché ha toccato tanti di quei punti che sono veramente importanti anche per noi a livello comunale. Ci sono proprio in questi giorni tanti di quei problemi da risolvere e che toccano molti dei punti che lei ha espresso. in primis parliamo appunto delle scuole, gli asili e tutto quello che viene fuori dai diritti delle persone che i diritti delle persone significano come ben detto lei avere la possibilità di esprimersi pienamente come cittadina quindi nessun diritto va dimenticato. Il motivo per cui abbiamo avuto questi tre giorni intensi per quanto riguarda appunto l'informazione presso la cittadinanza di quelle che hanno state le delibere già passate quelle che sono in divenire, quelle che verranno poi a seguire nei prossimi mesi e proprio far sempre più presente e informare sempre di più le persone ma anche spingerle, stimolarle a far valere quelle che sono i propri diritti. Tante volte non si conoscono neanche, non si sanno quelli che sono già gli ordinamenti all'interno della nostra normativa che permettono determinate cose e questo è una grossa lacuna probabilmente in tutti questi anni sì, come lei ha detto, tanti diritti non sono stati più messi in prima linea o sostenuti e quindi insomma ci si è anche un po' dimenticato di avere dei diritti in qualche modo, ed è triste dirlo, si cerca e si vede un regresso della nostra società rispetto a determinate conquiste che erano invece state fatte appunto in quegli anni d'oro di cui lei ha parlato negli anni settanta e in cui in poco tempo ci sono stati tanti passi avanti quindi credo che questa anche conversazione con lei sia molto importante a chiusura appunto di un momento informativo che non rimarrà qui perché comunque cercheremo di... perché queste sono tematiche che vanno ribadite, ripetute, riproposte continuamente quindi questo è l'unico modo per farle sicuramente anche digerire e apprezzare meglio da tutti. Intanto io la ringrazio e questo... però penso che sia importante in questo momento anche un po' il dibattito con chi è intervenuto questa sera e che vuole eventualmente chiedere lei è una persona di grandissima cultura e quindi... Io non penso mai di avere la verità in tasca. No, assolutamente, però qui... Chiunque può alzare la mano e fare una domanda. Può esserci un confronto ricco e produttivo. È la prima volta che vedo una cosa così grande, così bella, tutte queste foto e quindi mi sento un po' in difficoltà però la domanda che le voglio fare è questa. Lei è consapevole, è vero che prendersi cura dei bambini è la cosa più importante all'interno di una società? Prendersi cura dei bambini è la cosa più importante forse all'interno di una società. Quindi rispettare i diritti dei bambini è importante. Non trova? Come? Rispettare i diritti dei bambini è importante. Ecco, io quello che mi chiedo è questo. Dato che, ad esempio, anche per quanto riguarda l'agricoltura e i contadini, curare le piante più giovani è una cosa molto più importante rispetto a quelle più anziane. Perché saranno quelle che daranno quei frutti, quelle più giovani. Io mi dico questo, ma i bambini sin dalla nascita, quando arrivano a sei anni, poi andranno a scuola e nelle scuole gli viene insegnato che cos'è l'architettura, che cos'è l'ingegneria, che cos'è la medicina, che cos'è l'agricoltura. E mi chiedo, dato che siamo anche qua a Parma, come mai gli vengono fatti vedere tutti i mestieri che si fanno nella vita, ma non gli viene mai fatto vedere, ad esempio, un mestiere che ci dà da mangiare a tutti, ad esempio la carne. Non si fa vedere mai come succedono gli animali. Nelle scuole, ad esempio. Risponde subito? No, forse è meglio se raggruppiamo. Raggruppiamo un pochino di domande. Ecco. Prego. Il microfono là. Le domande ci sono. La signora, seconda fila. No, no, ecco, qui, poi dopo lì. Mi ha ricordato i begli anni settanta che io ho vissuto. Non facciamo solo. No, 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 ma io ho vissuto, ma dicevo, e volevo proprio anche mettere in evidenza un'altra cosa che a me ha sempre molto colpito, del ritardo con cui è stato eliminato il delitto d'onore. Questa, lei ha parlato delle altre cose e ho ricordato questa cosa perché veramente come donna l'ho sempre vissuto e credo che adesso stiamo rivivendo un momento di violenza nei confronti delle donne. Maravissima. A dei livelli veramente che faccio veramente molta fatica a capire come mai tutto questo venga anche quasi, non vorrei dire giustificato perché non è una parola corretta, ma tollerato e usato a livello informativo in una maniera forse eccessiva e a molte volte non corretta. Poi lei ha parlato dell'eutanasia, anche questo per me è un problema notevole, credo che abbiamo la necessità di risolverlo, ma anche questo rientra in quello che lei ha detto e sul cui io sono molto d'accordo che i diritti civili li stiamo dimenticando come un problema molto importante per la vita corretta delle istituzioni e in particolare dei cittadini. Ho avuto occasione di leggere, parlo di eutanasia perché ho avuto occasione di leggere proprio in questi giorni a Baccadora. Mi è piaciuto molto, mi ha fatto molto pensare e anche in questo caso devo dire che il fatto che la morte fosse data da una donna, che la donna è portatrice di vita e anche in questo caso di morte, mi ha fatto veramente molto pensare. Dico però già all'epoca non si tollerava il dolore e si dava attuazione a quella che era la volontà della persona di non volere più vivere. Grazie. C'è un'altra in fondo? Sì, questa poi mi fermo perché già le domande sono, cercherò di essere più sobrio nelle risposte di quanto sia stato. Le farò una domanda un po' scomoda forse come risposta, però confido nella sua sincerità. Lei prima parlava appunto di precise indicazioni provenienti dall'Unione Europea e provenienti comunque anche dalla CEDU, la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. In Italia negli ultimi decenni, gli ultimi parlamenti, i governi che si sono susseguiti hanno cercato di far credere ai cittadini che gli unici vincoli importanti, fondamentali provenienti dall'Unione Europea, dall'ambito europeo fossero quelli di bilancio, quelli finanziari. Si è continuato per anni questo tram tram, cioè dobbiamo tagliare perché l'Europa ce lo chiede. Sempre invece mettendo sotto il tappeto quello che allo stesso tempo l'Europa ha sempre chiesto, cioè il rispetto dei diritti si parlava della persona. Detto ciò, secondo lei si può legittimamente pensare e affermare, poi ognuno è della propria opinione, che ci sia stata una volontà tra virgolette diabolica in questo, cioè non parlare di diritti alla persona per evitare il problema anche da un punto di vista poi economico, di bilancio, anzi semmai piano piano erodere la loro tutela perché la tutela dei diritti sappiamo ha necessità di risorse, esclusivamente per andare a tutelare quelli che sono interessi prettamente economici, perché poi anche lì si potrebbe aprire un capitolo enorme, si vuole valutare lo sviluppo di un paese solo in termini di pilla o in termini di benessere della persona. Quindi secondo lei si può pensare legittimamente che ci sia stata una volontà diabolica, quindi non solo una dimenticanza del legislatore italiano, ma un preciso programma. Grazie. Io non so se l'aggettivo diabolico sia quello giusto, anche se voi sapete bene che c'è un'espressione molto felice che dice il diavolo si annida nei dettagli e quindi da questo punto di vista se volete io sono assolutamente d'accordo e sono d'accordo palessando il mio conflitto di interesse. Io sono stato uno di quelli che ha scritto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Quello che è avvenuto, lei ha assolutamente ragione, non assolutamente, c'è stata una deliberata volontà di amputare il sistema, tra molte virgolette, costituzionale europeo della dimensione dei diritti. E questa è una decisione dal punto di vista formale assolutamente illegittima, perché se voi leggete il trattato di Lisbona, l'articolo 6, scusate se ogni tanto devo fare dei riferimenti, ma così ci intendiamo, in quell'articolo 6 è scritto che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati. E quindi quando noi parliamo di trattati europei, e come lei dice giustamente la formula E ce lo chiede l'Europa, noi pensiamo soltanto a un pezzo delle richieste legittime dell'Europa e amputiamo del tutto la parte dei diritti. La parte dei diritti che, per ammissione stessa della Commissione Europea, deve essere presa in considerazione tutte le volte che l'Unione Europea fa degli atti normativi rilevanti e quindi deve essere scritto che tutto questo è compatibile con i diritti fondamentali. Questo è stato assolutamente messo tra parentesi. In questo momento in cui giustamente si discute che bisogna, e questo ormai lo dicono in troppi. Dico in troppi non perché non mi piace il fatto che lo dicano tante persone, ma perché tra quelli che lo dicono ci sono molti che fino a ieri erano esattamente dell'opinione opposta. Per carità, l'austerità è l'unica via. Quando poi si è cominciato a mostrare come non abbia funzionato, al di là del punto di vista che stiamo considerando questa strategia, tanti sono saliti sull'altro carro. Ma meglio che siano venuti e mi auguro che la discussione che si vuole riaprire vada anche nella direzione di rivedere una serie di vincoli che sono stati legati al pareggio di bilancio, il fiscal compact, ma bisogna anche guardare al fatto che c'è qualcosa che già esiste nell'ambito dell'Unione Europea e che dovrebbe, perché è il condizionale d'obbligo, mostrare come la dimensione economica non possa essere ritenuta tale da rendere la politica schiava dell'economia. Perché quello che è accaduto, questo è il dato, che la politica non solo nazionale ma anche sovranazionale è diventata schiava dell'economia. Questo è il dato che noi conosciamo tutte e sul quale non insisto. Quindi da questo punto di vista la domanda non solo non era scomoda ma in termini calcistici è stato un vero assist che mi è stato dato. Seconda questione, seconda questione, ha ragione a ricordare il delitto d'onore, non è stata una cosa facile. Così come non è stata una cosa facile, per esempio, decidere che l'adulterio della donna potesse essere considerato reato mentre non era quello del marito. In questa trappola cadde anche la Corte Costituzionale che con la prima sentenza, francamente infelice, non voglio usare altre parole, disse sì sì questa discriminazione va bene, poi la cancellò. L'opinione pubblica era allora molto reattiva. Il caso, come si chiamava la ragazza? Ah, Franca Viola, che reagì a tutto questo. E allora c'era però una politica che leggeva la società, una cultura che non era né timida né compiacente. E c'era quindi un circuito positivo. Non è stato soltanto perché a un certo punto per un qualche calcolo si è detto leviamo il delitto d'onore. Perché si sapeva che ancora era profondamente radicato. Insomma, un film come Sedotte Abbandonata rimane un grande film che ha colto quelli che erano, non voglio, perché sennò poi devo usare delle parole non parlamentari, ricordare alcuni dialoghi di quel film. Ma si capì che ci sono momenti in cui la politica deve assumersi le sue responsabilità anche di fronte a sedimentazioni, tra molte virgolette, culturali. Certo che non veniva accolta bene nelle aree in cui il delitto d'onore era considerato parte della cultura profonda. Ma non c'è una giustificazione sociologica della violazione dei diritti. Quindi ha fatto bene a ricordare tutto questo. Farei però una piccola distinzione. È vero però che il passaggio dalla capacità di reazione a una sorta di tolleranza è quello che è avvenuto in questi anni. E purtroppo la parola tolleranza ha cambiato significato. La parola tolleranza era la parola che stava iscritta nel trattato sulla tolleranza di Voltaire. Che quando di fronte si apre con la descrizione del supplizio di Damien per dire che era determinato sostanzialmente da ragioni religiose e da lì parte per questa difesa della tolleranza. Noi abbiamo dato una versione capovolta o debole della tolleranza. E cioè accettare qualunque cosa avvenga. Noi abbiamo accettato che la gente dicesse che agli immigrati illegali si potesse sparare come ai leprotti. Che si potesse, come dire, potessero usare parole tipo ma quando si avvicinano i barconi si può sparare. Che noi abbiamo derubricato, accettato come battute ma hanno invece creato quella tolleranza. Io vorrei che qualcuno di voi sapesse, probabilmente lo sapete, che questa è che noi derubrichiamo. Poi, poiché c'è un'Unione Europea dove quando delle cose sono dette da parlamentari europei vengono tradotte e messe nelle rassegne stampa che vanno nelle mani di tutti i parlamentari europei. E quindi quello che qualche volta ha fatto una battuta, adesso non diciamo, non drammatizziamo. E invece diventava l'immagine dell'Italia davanti al Parlamento europeo. Cosa che io ho potuto vedere con quali effetti negativi. Per cui il parlare poi dei parlamentari italiani quando ci sono, veniva preso in scarsa considerazione. Una piccola domanda. Sì, sì, ci arrivo alla fine per una ragione. Sul discorso di Elvano Inglari io non parlerei che la parola eutanasia può essere fuorviata. Io ritengo che una cosa è l'eutanasia, cioè dare la morte benevolmente. Ma io credo che non si possa mai prescindere dalla volontà della persona. Questo è un punto essenziale perché altrimenti noi regrediamo culturalmente e civilmente e neghiamo l'umanità della persona. Io sono molto, come dire, so che molti miei amici hanno sostenuto un'altra tesi, ma di fronte alle leggi, l'ultima e quella del Belgio, sulla possibilità di accompagnare i bambini, ecco, questa è una cosa che mi lascia veramente molti dubbi, è una cosa di cui possiamo discutere. A proposito di bambini, certo che i bambini devono vedersi riconosciuti diritti. Io credo che i rappresentanti italiani, non solo io, eravamo in quattro, da punti di vista molto diversi, alla convenzione che scrisse la Carta dei diritti fondamentali, si può prendere un merito che non si è parlato di diritti delle persone solo in astratto, ma si sono individuate tre categorie alle quali devono essere riconosciuti i diritti particolari e sono gli anziani, i disabili e i bambini. Detto questo, lei ha porto un problema ulteriore, ma noi insegniamo anche ai bambini che cosa è il mondo degli esseri, degli animali non umani, perché questa è l'espressione che poi si prende in considerazione. Gli spieghiamo che cosa significa e come si uccide un animale. Certo, questo oggi è uno dei grandi problemi in discussione ed è un problema sia di considerare il fatto che noi non siamo gli unici esseri senzienti, non siamo gli unici che sentiamo dolore e quindi una serie di problemi che poi non sono legati soltanto all'uccisione, alla macellazione, ma il tema più caldo è quello della sperimentazione. Quindi questo è vero, io credo e questo richiede che la scuola, mi fa piacere che lei abbia fatto questo riferimento. Io per ragioni familiari e personali sono un uomo di scuola, sono figlio di insegnante di scuola media, ho fatto tutta la mia vita, a parte le varie parentesi, l'insegnante, mi piace più dire questo che il professore. La scuola è il luogo dove si forma la cultura delle persone e quindi che noi dobbiamo avere la capacità di portare nella scuola tutti questi temi mi pare che sia sacrosanto. E di nuovo permettetemi di dire una cosa che magari non è ideologica. Questo si può fare solo in una scuola aperta e pubblica. E quindi di nuovo, questa non è una forzatura ideologica, perché nell'articolo 36 della Costituzione, se non sbaglio la citazione, si dice che lo Stato deve istituire scuole di ogni ordine e grado e non le deve istituire sulla carta. Di nuovo, problema di risorse. Ma oggi siamo di fronte a una situazione per cui ogni settimana viene una notizia per cui qui è crollato il soffitto, l'altro giorno a Palermo feriti tre bambini. Ecco, di nuovo dobbiamo essere molto attenti anche in situazioni di risorse scarse vedere come le distribuiamo. E la scuola è il luogo dove noi prendiamo consapevolezza di tutto questo. Un minuto, poi lei tornerà. Sentiamo, il diritto di repliche è sacrosanto. Professore, posso chiederle una cosa? Soltanto una cosa. Perché gli italiani devono essere sempre gli ultimi e della classe. Ma, vabbè, sì, sì, ha ragione. Prego, andrà in fondo. Adesso arriva col microfono. Alzate la mano. Chi è che doveva parlare? Professore, buonasera. Mi scusi, lei da molti anni fa quest'opera di, diciamo, di evangelizzazione costituzionale, la chiamo così, e soprattutto gira per le piazze d'Italia a chiedere il rispetto vero ed effettivo della nostra carta costituzionale. Lei prima ha fatto riferimento alle tematiche del lavoro. Mi chiedo, com'è possibile mettere insieme la richiesta di effettiva attuazione della carta con delle politiche che, a livello centrale, sono sintetizzate in quello che fu lo studio di JP Morgan di qualche anno fa, cioè dove si va verso, invece, una compressione. Da un certo punto di vista sono molto più drastico dell'intervento del signore. Io dico che, invece, la crisi è stata usata strumentalmente per comprimere ulteriormente i diritti del cittadino. Grazie. Salve, professor Rodotà. Volevo fare una domanda. Non perché mio nonno è uno di quelli che ha sito la Costituzione insieme a tanti egregi illustri personaggi, ma l'articolo 38, a cui ci tengo molto, è quello sulla democrazia progressiva, visto che si parla di bambini, di anticappati, di anziani, ma i cittadini italiani chi li difende? Perché oggi come oggi questo articolo, che è fondamentale, non è più ripreso da nessuno. Non solo abbiamo voto un Presidente della Repubblica che ha nominato il Presidente del Consiglio, uno dei capi della trilaterale, che certo non mi sembra che tuteli la cittadinanza italiana, ma che tutela le banche, e in maniera forse antidemocratica, ha posto come Senatore a vita, Presidente del Consiglio, attualmente capo di un partito. Se ricordo bene le mie riminiscenze di diritto, un Senatore a vita che faccia tutte queste cose è un po' contraddittorio. Sicuramente contraddice la Costituzione sulla democrazia progressiva, visto le idee che queste figure propongono. Spero che accetti la provocazione. Sì, io comincio a rispondere, sì, sennò poi si accumulano troppe cose. Ma io, beh, le provocazioni, queste sono riflessioni critiche. Io penso che la parola provocazione, a me non piace tanto, lo dico, sia perché poi una critica espressa francamente è anche un modo per rispettare l'interlocutore. Perché se uno si sente solo provocato, vuol dire che al dialogo non ci crede. E il dialogo, se io mi sentissi provocato, potrei dire, ah, vergogna, queste domande che vi vengono fatte solo... No, io credo moltissimo al dialogo in democrazia che non deve essere mai interrotto. Costi quel che costi. Dico questo perché questo è nell'essenza della democrazia. Detto questo, io francamente le devo dire una cosa. Certo, quella che è stata chiamata giustamente la democrazia progressiva, c'è una democrazia in questo senso che si costruisce giorno per giorno attraverso i comportamenti. E io questo discorso sulla democrazia non è che non lo voglio affrontare, ma non lo metterei, come dire, soltanto nell'ottica, mi permetta, questa non è una provocazione critica, un po' complottistica. Ci sono dei dati di realtà perché Monti è stato fatto senatore a vita, perché è stato scelto. Ecco, questi sono discorsi sacrosanti e che entrano nel merito politico delle decisioni che vengono prese. Quindi da questo punto di vista sollevare la questione è assolutamente corretto. E poi è giusto ricordare quella mossa di insofferenza a cui ha dato voce un soggetto che francamente doveva starsene zitto. JP Morgan ha poi accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari per i comportamenti in violazione della legge che era stata ottenuta da questa organizzazione. Quindi diciamo, meglio non... Però questi fatti sono abbastanza significativi, perché danno, come dire, voce a un sentire diffuso. Ed è un sentire diffuso. JP Morgan ha detto che le costituzioni dell'Europa del Sud, del Sud, e cioè Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, sono troppo legate a un modello di rispetto dei diritti. Passiamoci sopra. Ecco, io credo che la discussione di stasera e le vostre domande vanno esattamente, anche se con notazioni diverse, nella direzione di dire che sui diritti non si può passare impunemente sopra. Ma non solo per la ragione che io vi ho detto, che è banale e che i diritti devono essere rispettati, perché la democrazia è inseparabile dai diritti, perché tante dittature del secolo passato e anche di questo secolo sono cadute, perché a un certo punto, lo dico banalmente, la democrazia intesa come regime innervato di diritti è stato capace di sconfiggere. Se noi separiamo il regime democratico dai diritti che questo implica, mettiamo a rischio la tenuta stessa degli Stati. E questo è un punto drammatico in questo momento. Perché? Perché noi viviamo non solo in Italia, in Italia con particolare intensità, una situazione di sfiducia nelle istituzioni, perché le istituzioni sono ritenute lontane dai cittadini, è un terreno sul quale si recupera la fiducia dei cittadini, è quella del rispetto dei diritti, perché noi non lo possiamo considerare il tema soltanto in astratto, perché quello che io vi ho ricordato, cioè che per esempio non è stata riscritta, secondo quelle che erano indicazioni della Corte Costituzionale, la Corte Europea dei diritti dell'uomo, la legge sulla procreazione assistita, ha effetti sulla vita delle persone, perché esiste da anni quello che si chiama turismo procreativo, che nella stima più prudente porta 10.000 coppie l'anno ad andare fuori d'Italia per avere trattamenti che in Italia o non ci sono, o che appunto la non consapevolezza, le persone non sanno che ci sono state delle sentenze della Corte e quindi vanno fuori d'Italia pensando che la legge sia ancora quella, e allora non c'è stata la giusta informazione, e non c'è stata la ripulitura della legge, con quali conseguenze? Una conseguenza grave sul terreno dei diritti. Chi si può permettere tutto questo? Soltanto chi ha risorse economiche, perché costa molto andare fuori d'Italia per ottenere l'accesso alla procreazione assistita. Costa in termini di organizzazione della vita, perché bisogna andarsene per un periodo dal proprio Paese. Costa in termini di risorse culturali, perché bisogna sapere, c'è stato quello che si chiamava espressione orrenda turismo abortivo, che cosa succedeva? Delle persone prendevano un charter a Roma o a Milano e andavano in Olanda o in Inghilterra e il giorno dopo tornavano a casa con l'interruzione della gravidanza. Il costo era ridotto, lo spaesamento era nullo, e le risorse culturali non esistevano. Perché io andavo, adesso per esempio, nelle cliniche migliori in Spagna si sono resti conto che non bastava soltanto avere delle persone in grado di fare quelle operazioni di procreazione assistita, ma che arrivavano delle persone che avevano una storia attraverso la quale erano arrivate a quella decisione, dovevano assumere anche medici italiani in grado di parlare con queste persone, perché le risorse culturali sono altrettanto importanti che le risorse economiche, che poi sono fondamentali. Chi poteva interrompere la gravidanza fuori dall'Italia? Chi poteva in tempi pre-1970 ricorrere ai ricorsi ai divorzi ungheresi, submarinesi, americani? Chi può oggi andare fuori d'Italia per la procreazione assistita? Chi ha denaro. Quindi noi stiamo ricadendo in quella che nell'Ottocento si chiamava cittadinanza censitaria. Votava soltanto chi aveva un reddito superiore a una certa cifra. Noi oggi commisuriamo i diritti fondamentali al denaro che ho. Se io ho denaro mi compro la procreazione assistita, l'interruzione della gravidanza e l'accelerazione di tutta un'altra serie di procedimenti. Noi non possiamo accettare che i diritti siano subordinati alle disponibilità economiche. Per cui questo viola l'eguaglianza tra le persone e la dignità delle persone. Ho tanta salute quanto ne possa comprare sul mercato. Oggi il 30% dei cittadini rinuncia alla medicina preventiva perché non può pagare il ticket con un aggravio poi alla fine delle finanze pubbliche. perché voi sapete che quando si supera poi una certa soglia che è la soglia della patologia si è esentati dal ticket. Ma in quel momento tu costi molto di più allo Stato. Quindi io dico una battuta. È vero che i diritti costano ma costano soprattutto quando non vengono rispettati. Questo è un punto fondamentale. E allora io credo che noi questo il recupero della fiducia il recupero della fiducia nasce anche dal fatto al di là del problema delle risorse che come vi ho detto è capitale dal fatto che le istituzioni dicono in prima misura io mi faccio carico di questo e cerco di utilizzare le mie risorse economiche ma anche di informazione di sostegno in questa direzione. Siamo gli ultimi della classe. Non lo siamo sempre stati. Io ho fatto in quel momento negli anni 70 in Europa noi eravamo assolutamente all'avanguardia. La riforma del diritto di famiglia del 75 era un modello in Europa. Ho dimenticato per esempio la legge Basaglia ma il sistema sanitario nazionale italiano. Io racconto sempre che una volta con mia moglie viaggiavamo nel cuore degli Stati Uniti. Ci siamo fermati a dormire in un posto non mi ricordo uno di quei posti dove uno alla sera si ferma e va a dormire in un motel che gli capita e accendiamo la televisione vediamo un luogo abbiamo detto ma questo lo conosciamo era l'ospedale San Camillo di Roma che non è un ospedale come dire molto lodato per la sua organizzazione ma sapete che cosa diceva lo speaker questo è un luogo dove se voi siete ammalati e andate vi curano senza bisogno di chiedervi prima la carta di credito o un contratto di assicurazione quindi queste cose dovremmo tenere molto strette e sono un dato di civiltà e sono un dato anche di tutela della stessa non solo della dignità ma della vita delle persone siamo condannati a essere gli ultimi della classe io direi di no come condanna come rischio per me se io sono qui stasera se io fossi convinto di tutto questo vi assicuro che non mi sarei spostato perché avrei detto perdiamo tempo ma poiché c'è chi non si ritiene l'ultimo della classe questi due signori che sono seduti qui beh allora con questi bisogna essere vicini e poi e poi lo dico polemicamente nessuno di voi è l'ultimo della classe quando io vado molto nelle scuole non c'è questa sensazione c'è la voglia dei ragazzi di essere protagonisti e questo noi lo dobbiamo sostenere c'è un diritto un diritto che emerge una richiesta di un diritto che emerge da molte domande e anche da alcune sue risposte che è il diritto alla conoscenza mettendoci dentro un po' tutto l'accesso ad esempio a internet ne abbiamo parlato prima ma anche il diritto ad un'informazione obiettiva il diritto ad una scuola veramente formativa tutto questo in questo momento manca ma manca anche il dibattito su questo d'accordo assolutamente sì questo è un punto capitale non voglio fare le citazioni dotte ma la politica di Aristotele quindi un po' di tempo fa si apre adesso io cito a memoria tutti hanno voglia di sapere ecco cioè c'è un bisogno che è quasi un bisogno naturale che poi si trova nella dichiarazione universale di diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 48 dove si dice che tutti hanno diritto di cercare ricevere e diffondere informazioni naturalmente questo implica un problema e cioè io vivo in un contesto che mi consente di cercare ricevere e diffondere informazioni in modo democratico questo è un grande tema che non è risolto permettetemi di dirlo dal fatto che c'è la rete certo la rete ha cambiato il mio modo di lavorare non c'è dubbio prima adesso prima quando avevo un dubbio io potevo passare anche delle giornate dovevo andare in biblioteca non trovavo poi il libro arrivavo e mi dicevano il libro è in lettura vabbè adesso vado in rete digito tre parole poi devo avere il minimo spirito critico perché mi può arrivare anche un'informazione sbagliata e l'ho verificato su di me perché per prima mia nipote mi disse che aveva corretto la mia biografia su wikipedia perché non erano guardate non erano informazioni come dire oltraggiosi solo che non erano esatte io ogni tanto andando nelle scuole dico beh se io leggessi sul biografia su wikipedia che ho vinto i cento metri all'olimpiade di melbourne beh è un sogno della vita ma poi voi trovate questa informazione andate olimpiade di melbourne ordine dell'arrivo dei cento metri e non mi trovate quindi qualche controllo incrociato quindi un po' di controlli incrociati sono necessari quindi non c'è dubbio che la capacità di accesso alla conoscenza la rete lo ha reso straordinariamente importante ponendo un problema io arrivo alla conoscenza in rete come un mio diritto fondamentale o ci devo arrivare attraverso la mediazione del mercato e di nuovo io ho tanta capacità di conoscenza quanto mi permettono le mie risorse io sono tra quelli che sostengono come tantissimi altri che la conoscenza in rete in via di principio è un bene comune o come dice Luciano Gallino un bene pubblico globale e che le restrizioni richiedono condizioni eccezionali però poi diciamo la verità il sistema della conoscenza è variegato noi sappiamo benissimo che ancora oggi la televisione generalista che da alcuni è considerato un mezzo come si dice maturo e cioè un mezzo che non ha più centralità non è vero che sia così perché ancora la televisione generalista magari non ha più la funzione che aveva un tempo che era il luogo che unificava che il giorno dopo si parlava soprattutto quando c'era una sola rete si parlava solo di quello l'Italia si fermava per Lascio Raddoppia e io me lo ricordo benissimo al cinema la gente pur di attirare gli spettatori il momento finale di Lascio Raddoppia io mi ricordo la sera in cui c'era Paola Bolognani e avevamo al cinema Barberini a Roma e lo spettacolo si interlupe per vedere c'era questo fatto oggi non c'è più tutto questo e però il problema rimane perché c'è un problema legato a due fattori primo ancora la televisione generalista è un luogo a cui si rivolgono molto si dice le fasce meno acculturate le fasce più anziane non è un fatto indifferente perché ancora un rapporto Censis di due anni due anni e mezzo fa diceva che l'informazione politica della maggioranza dei cittadini era attinta al Tg1 e al Tg5 questo c'è un punto che pone poi un problema molto importante in questa situazione ne parlavamo prima qual è il ruolo della televisione come servizio pubblico che noi abbiamo bisogno di servizio pubblico e oggi in alcune situazioni fanno molto più servizio pubblico delle reti private per esempio fanno quando c'è una discussione politica importante un collegamento senza limiti la 7 o sky Tg24 e perché una delle tre reti poi ci sono altre reti ma una delle tre reti nazionali non fa lo stesso servizio che sarebbe anche un modo giusto di stare sul mercato in maniera concorrenziale abbiamo questo abbiamo un problema poi legato al riconoscimento della professionalità dei giornalisti attenzione perché oggi c'è molto precariato terribile in un settore il precariato è sempre qualcosa di terribile il precariato nella scuola il precariato di chi va a lavorare in un consente e il precariato nell'informazione rende estremamente vulnerabile chi si trova a lavorare e quindi non c'è bisogno di particolari pressioni perché l'autocensura diventa un motivo per mantenere neanche il posto di lavoro ma il ruolo di precario quindi noi ci troviamo in questa situazione che ha anche in qualche altro paese qualche analogia ma noi la stiamo vivendo in modo molto perché e perché in questi anni abbiamo visto che la televisione prima e poi anche il mondo della carta stampata sono stato oggetto di lotte di potere che io non ho bisogno qui di raccontare perché sono davanti agli occhi di tutti quindi il tema della conoscenza è sicuramente un tema capitale nelle varie sfaccettature che ho indicato c'è una domanda ecco in fondo prima in fondo poi qui e poi lei questi ultimi ecco io guardi la rispetto molto e rispetto tutto il vostro lavoro penso davvero che stiate cercando di fare il meglio è solamente che il meglio adesso come adesso non basta personalmente ma penso di parlare a nome di tante persone faccio parte di una cooperativa che adesso siccome la società pubblica vuole riappaltare da sola tutti gli operatori rimaniamo come soci della cooperativa a piedi perché fosse subentrata un'altra cooperativa all'appalto noi saremmo passati con la nuova cooperativa adesso siccome l'ASP una società pubblica subentra noi come lavoratori di una società privata quale cooperativa rimaniamo a piedi e non sappiamo più che cosa fare perché la cooperativa non è che abbia ampi spazi per riuscire a ricollocarci non è che possiamo stiamo facendo una trattativa sindacale difficile molto difficile e vedremo dove andremo a finire ci sono ci sono possibili badanti italiane moldave polacche c'è un settore welfare che andrebbe un pochettino più insomma bisogna tirare le basi di questa situazione poi gli anziani aumenteranno sempre di più perciò veramente chiedo a tutti di badare di dare un occhio su questo aspetto perché ci sono qualificazioni ci sono progettualità ci sono tutta una serie di cose che bisognerebbe incominciare a valutare poiché invecchiamo tutti la mortalità è di tutti la libertà di morire come cavolo ci pare è di tutti sia che uno voglia morire in un modo sia che uno voglia morire in un altro la libertà senza quella non c'è libertà grazie buonasera io volevo fare due domande in parte ricollegandomi ad alcune considerazioni che lei ha fatto anche ho sentito altre persone negli ultimi anni è passato un messaggio per cui la riduzione o comunque la razionalizzazione dello stato sociale piuttosto che il pareggio di bilancio il principio economicistico fosse funzionalizzato alla tutela dei diritti delle generazioni future per esempio la riforma pensionistica la riforma fornero si apre dicendo noi dobbiamo garantire l'equità intragenerazionale e intergenerazionale ma allora è una strumentalizzazione politica oppure c'è un fondamento politico e giuridico dietro l'etichetta e i diritti delle generazioni future e poi un'altra domanda abbiamo sentito parlare di fine vita di procreazione medicalmente assistita però ultimamente c'è un altro aspetto della salute che di cui tanto si discute che è il diritto alla speranza di vita allora di fronte anche alla vicenda stamina per esempio stamina mi chiedo qual è la la distanza o mi verrebbe da dire la giusta distanza che le istituzioni o il diritto devono avere rispetto alla scienza quando questa è incerta grazie l'ultima domanda intanto ringrazio il SID a quella giunta per questa opportunità insomma una cosa molto bella e mi sento il dovere di ringraziare io ve lo porre questo problema ci sono alcuni diritti che in certo qual modo sono più riconoscibili quindi più facili da affrontare e quindi anche da verificare nella misura in cui sono meno riconosciuti ci sono alcuni diritti ad esempio il discorso del diritto a una vita libera e dignitosa che riportati nell'ambito delle politiche di welfare di oggi ad esempio siamo l'assistenza agli anziani e disabili parlo di questi perché conosco un po' questa materia e diventa sempre più complicato da parte anche delle politiche pubbliche e locali come orientarsi nel senso che effettivamente la possibilità economica le possibilità economiche sono basse la qualità della vita delle persone disabili e anziani e di chi cura è sempre più sotto stress all'interno di limiti di bilancio che a livello delle politiche locali sembrano poco aggredibili se non per la parte che interessa adesso mi rivolgo anche il sindaco nella revisione delle politiche locali per una certa parte questo comporta anche un procedere per linee guida che vengono a livello nazionale a livello regionale che non costituiscono più un'occasione di dibattito pubblico e di confronto con le persone interessate perché c'è un momento parliamo appunto di democrazia della prossimità ma anche di velfa della prossimità dove solo chi assiste o chi vive da disabile o da anziano è un autosufficiente deve avere il diritto di parola pubblica e il diritto di dire qual è la sua vita libera e dignitosa allora io credo che non ci sia certamente un metro rigido ma certamente c'è un metro che va condiviso continuamente a livello locale ai vari livelli perché questo metro di vita libera e dignitosa venga in qualche modo condiviso e compartecipato in continuazione oggi noi rischiamo di avere bilanci piccoli linee guida rigorose assenza di incontri culturali e dibattiti io lo trovo una cosa pericolosissima noi stiamo andando verso un velfa sempre più piccolo e abbiamo scoperto il velfa di comunità che è una cosa bellissima e c'è lavoro da anni però insomma c'è un uso anche molto malizioso di questo velfa di comunità la comunità che cura se stessa la comunità fa del bricolà su se stessa ma le cose grosse la comunità questo velfa di comunità non le affronta il limite apre occasioni di dibattito e di parola pubblica grazie ci sono due due poi chiediamo però ecco due brevi per favore poi ci fermiamo no non perché io sarei pronto io sono deve essere una riprica rapida prego allora considerate la complessità del nostro paese professore dotà che chance hanno i cittadini che chance hanno i cittadini di vedere riconosciuti i propri diritti ha detto tenero un microfono io ho sentito ho sentito poi chi c'era ancora ultimo questo ecco prima avete trattato un tema molto importante lei ha parlato di Aristotele dicendo che tutti amano la conoscenza e ne amano la ricerca ma Aristotele era un allievo di Platone se si ricorda insomma e poi la sua filosofia non è esattamente beh no no non era esattamente però si era allievo qualcosa l'avrei imparato dall'allievo come io adesso sto imparando da lei che sono il suo allievo in questo momento perché io non so e lei sa ma oltre a questo la conoscenza è importante no e lei ha detto che ad esempio quando una persona un politico dice una certa parola poi questa qui viene ricordata e viene rivista anche nelle televisioni degli stati amici no e viene anche magari ridicolizzata a volte io mi dico questo questa conoscenza in effetti succede anche nei bambini scusi se parlo sempre dei bambini ma mi piacciono tanto e in effetti quando in televisione guardano strisci alla notizia vedono le veline con un seno molto potente e cosa fanno loro beh la prima cosa che fanno è dicono beh c'è una conoscenza internet vado su internet e cosa c'è su internet siti pornografici e soddisfo tutto quello che mi piace e in effetti la maggior parte dei bambini fa questo allora la conoscenza in che modo dobbiamo far sì che le persone possano entrarci in contatto perché potrebbe diventare molto pericoloso in effetti potrebbe portare all'ozio i bambini a fargli vedere che si può fare tutto senza muoversi e in effetti succede che adesso in Italia i campi non sono più coltivati li facciamo coltivare a rumeni albanesi eccetera eccetera quindi in che modo la conoscenza deve essere libera grazie mi scuserete se sarò un po' sommario ma le domande sono tante alcune sono intorno al tema per la verità dello stato sociale a cominciare dalla prima sulla quale effettivamente io poi non ho tutti gli elementi per poter dire la mia ma non c'è dubbio l'esempio riguardante la cooperativa che rischia di essere messa fuori gioco e che implica la considerazione in una serie di aspetti come è stato messo in evidenza e cioè poi finisce con l'essere disconosciuta la professionalità viene messa in difficoltà soprattutto la parte più anziana della popolazione che ha minori possibilità ammesso che ci sia un mercato pronto disposto a riconvertirsi e quindi questo diventa un vincolo alla libertà questo ci dice una cosa che io adesso enuncio in maniera estrema quindi prendetela per quella che è che il mercato non può essere considerato una specie di legge naturale per cui poi alla fine che si dice i mercati votano aspettiamo che cosa diranno lunedì i mercati questo certamente è uno dei tanti indici ma noi dovremmo sapere che il mercato come si dice è una costruzione sociale e cioè noi diamo al mercato anche le caratteristiche che in un certo momento la società prevalentemente ritiene di dover riconoscere in questo modo di disciplinare i rapporti e allora noi dobbiamo uscire come io ho detto prima come c'è la trappola dell'economicismo che distrugge la politica c'è la stessa trappola del mercato che è considerato i diritti solo un lusso aspettiamo che ci siano le risorse perché la legge di mercato deve essere rispettata se noi adottiamo questo punto di vista questo punto di vista la risposta a chi mi chiedeva quali sono le chance di vedere riconosciuti i propri diritti in una situazione culturale politica come questa sono basse e noi lo dobbiamo dire e allora c'è un problema e c'è un problema molto grave perché la coesione sociale è garantita anche dal fatto che le persone si rendono conto che le istituzioni pubbliche sono un alleato non un avversario un avversario nel senso che non adotta logiche divergenti da quelli che sono i diritti delle persone non sto dicendo che è alleata di chissà quale terribile e diabolico potere quindi questa è la prima considerazione certo che il riferimento alle generazioni future è stato molto strumentalizzato pur essendo evidentemente un riferimento importante anche dal punto di vista dei diritti perché per esempio quando ci si chiede ma perché un signore che abita a Parma dovrebbe avere il diritto di intervenire dicendo si sta distruggendo un ambiente significativo che si trova a Pantelleria la vecchia logica giuridica dice ma tu quale interesse hai? tu vuoi andare a Pantelleria? no io detesto Pantelleria ma mi dicono che è un ambiente così importante riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e se lo vogliono distruggere io lo voglio mantenere integro per gli altri che vogliono andare a Pantelleria o per i miei figli futuri per i quali voglio mantenere tutto questo quindi c'è un aspetto delle generazioni future molto importante che diventa salvaguardia di beni che costruiscono poi una comunità che devono essere anche sostratti al principio di maggioranza perché se io distruggo un bene di questo tipo poi non lo posso ricostruire la logica della democrazia che vede nel principio di maggioranza uno dei suoi fondamenti qual è? oggi c'è una maggioranza poi la maggioranza cambierà e io potrò riportare la situazione a quella precedente ci sono situazioni nelle quali questo è o materialmente impossibile l'impresa l'ambiente è stato distrutto e quindi non c'è niente da fare oppure le difficoltà che conoscono gli amministratori che si trovano a ereditare qualcosa che malgrado il cambiamento di maggioranza diventa estremamente difficile da gestire quindi dobbiamo anche vedere quali sono le decisioni che possono essere prese secondo le logiche tradizionali della maggioranza allora ci sono ma certamente il discorso sulle generazioni future è stato fortemente strumentalizzato nell'ultima fase non a caso ormai da tutte le parti mi riferisco solo alla riforma Fornero per non dire altre cose si dice ma quella riforma non va bene quindi quel cappello che è stato messo quella giustificazione o in quell'alibi in quel caso è certamente un tipo di strumentalizzazione fermo restando che io devo agire in modo tale devo tener conto anche di questa componente che sono i diritti delle generazioni future che non hanno nessuno che parli il loro nome e quindi dobbiamo essere noi che mettiamo a punto delle procedure che consentono che quei diritti vengano presi in considerazione senza essere strumentalizzati e naturalmente questo porta la questione come si accede certo che oggi ci sono grandi problemi per quanto riguarda la rete l'accesso dei minori dei bambini ma non solo questi il linguaggio dell'odio e quindi c'è un problema molto delicato perché qui si intersecano due situazioni il diritto alla libertà di espressione alla libertà di costruire liberamente la rete e i diritti di altri soggetti naturalmente tutto questo il caso casi estremi sono due sono il diritto appunto quello dei siti porno e il problema e poi in particolare quelli i siti pedofili che sono già per i quali già esiste in Italia una disciplina molto rigorosa che è quella che li considera come reato addirittura l'accesso anche se qui il solo accesso può porre qualche problema perché io ci posso finire per caso o devo distinguere può darsi che io ecco dove io metto delle cautele perché Stefano Rodotà ha avuto un giorno ha scelto di accedere a un sito pedopornografico perché ci è andato per caso perché è uno sceno pedofilo o perché è un nobile ricercatore che nell'ambito di un progetto internazionale studia la pedopornografia quindi c'è un problema di valutare la conoscenza in rete anche in funzione di chi accede e delle modalità e del contesto il problema è vero non è facile la possibilità di escludere di intervenire di escludere per esempio per i minori la possibilità di accesso ci sono varie tecniche soprattutto questo è un vero problema che lei ha sollevato e che fino a questo momento non ha avuto una risposta soddisfacente ho lasciato per ultima due questioni uno il tema quali sono i diritti più riconoscibili certamente i diritti degli anziani e dei disabili hanno assunto negli ultimi anni una rilevanza particolare non a caso io ho detto che sono particolarmente orgoglioso di essere stato uno dei quattro che propose per la carta i diritti fondamentali che proprio gli anziani e i disabili divenissero non una categoria a parte ma una categoria emblematica di una condizione umana che richiede un'attenzione particolare è vero qual è la voce data agli anziani e ai disabili fino a che punto si interloquisce con loro fino a che punto una distanza che le istituzioni prendono da queste persone è accettabile perché per esempio quando si dice ma oggi noi abbiamo tutta una serie di tecnologie che consentono di come dire di seguire gli anziani in particolare senza bisogno di andare di andare a casa loro c'è una serie di tecnologie che consentono di sapere come va la sua pressione controllare se ha preso o no le medicine e via dicendo però io sono colpito da un fatto che la mia farmacista mi ha detto una volta ah professore quanto è paziente perché c'era una signora che stava lì a chiacchierare sa questa signora viene qui compra le medicine che poi secondo me non da dopo ma ha bisogno ogni tanto di parlare di sé con qualcuno quindi la tecnologia non ci dà tutte le risposte e a maggior ragione la necessità di trovare una interlocuzione con queste persone e queste categorie per esempio quando si insiste in modo sbagliato sulla disabilità io mi sono trovato in occasione in cui le associazioni dei disabili hanno detto attenzione non dite in modo aggressivo e normativo ma ormai questa disabilità può essere eliminata facendo questo questo o quell'altro perché voi in questo modo stigmatizzate anche queste persone voi dovete offrire questa possibilità ma se poi una famiglia convive bene con la persona disabile ma perché dovete in quel momento intervenire in maniera per cui poi se loro non intervengono in maniera aggressiva vengono stigmatizzati a guarda che mascalzoni non fanno curare il loro figlio fratello genitore e via dicendo quindi questo del dialogo su questi terreni è straordinariamente importante per quanto riguarda gli anziani o i disabili chiudo su questo tema della speranza di vita che ci porta su una delle frontiere più impervie e cioè il rapporto con la scienza noi sappiamo la scienza ha anche una sua prepotenza unica portatrice di verità c'è una pretesa che però soprattutto nel mondo così come si è venuto organizzando è stata in qualche modo messa in discussione tant'è che poi molte ricerche scientifiche soprattutto particolarmente impegnative per gli effetti sociali che possono produrre sono ormai accompagnati sia da obblighi di trasparenza cioè far sapere come procede la ricerca di modo che poi l'opinione pubblica posso dire la sua o addirittura si prevede che per taluna ricerca una parte del finanziamento debba essere utilizzato per costituire un gruppo che in progress cioè continuamente controlla il modo in cui la ricerca viene condotta comitati etici o cose di questo genere ma il punto questo di 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 stamina ripropone una questione che periodicamente c'è in Italia ma c'è in altri paesi si può accettare che delle persone propongano delle modalità di cura perché di questo si tratta che non hanno nessuna plausibilità scientifica io posso fare un lungo elenco il più vicino è quello prima di questo quella è la cosiddetta cura di Bella sulla quale ci fu una campagna analoga a questa perché io ricordo per esempio che faccio un solo riferimento una trasmissione che allora era molto importante dal punto di vista mediatico che era il Maurizio Costanzo Sciola aveva fatto diventare un tema così impegnativo che a un certo punto il consiglio dei ministri si si arresse per un governo di centro-sinistra il ministro della salute era Rossi Bindi e disse va beh accettiamo la sperimentazione e quindi poi con modalità che l'allora provvido garante per la praga si mise in discussione con qualche come dire dialogo un po' diciamo vivace con Rossi Bindi ma poi la cura di Bella si vide che era un imbroglio diciamo la verità e c'è un problema c'è un problema dal punto di vista della scienza e quindi la scienza in questi casi un ruolo lo gioca perché la scienza deve certificare e dire alle persone ma date che questa cosa effettivamente corrisponde a ciò che vi viene promesso oppure no e questo è una responsabilità che si deve assumere la scienza assolutamente senza pretendere di essere depositaria di verità ma attraverso procedure che siano verificabili perché poi se c'è una commissione che dice o ci sono degli studiosi che dicono le cose stanno così si espongono al giudizio non solo che c'è in quel momento in un paese al giudizio della comunità internazionale secondo c'è un problema anche la speranza per carità si dice la speranza è l'ultima a morire quindi guaglia a spegnere la speranza ma c'è anche un problema di non suscitare false aspettative questo è un problema capisco che è un problema molto delicato e quando non si vedono altre vie di uscita io mi metto nelle mani di chiunque e vado mi metto nelle mani di chi mi promette qualsiasi cosa può essere una fattucchiera può essere non voglio nominare una signora molto brava in programmi televisivi che poi è stata condannata per truffa insieme alla figlia e a un altro signore non faccio nomi non faccio nomi e non voglio ma dico bisogna stare molto attenti quando sono in gioco diritti fondamentali c'è una responsabilità pubblica anche dire perché questo che cosa comporta comporta interventi che ci sono stati nella magistratura a mio giudizio in questi casi non sempre adeguati devo essere sincero e c'è anche denaro pubblico perché poi di tutto questo si fa carico a strutture pubbliche e quindi non è soltanto un c'è un problema di giusta ripartizione delle risorse tra chi chiede l'accesso a cure certificate e chi invece chiede soltanto di coltivare una speranza capisco che questa l'ho lasciata per ultima perché è un punto molto problematico io stesso però devo dire che noi non possiamo dismettere la responsabilità pubblica in questi casi perché quando poi le certificazioni si accumulano l'evidenza scientifica è molto bassa o nulla beh qualcuno poi una responsabilità di dare una risposta se la deve pure assumere grazie grazie professore e devo devo ringraziare anche tutti voi perché prima il professore mi ha detto tu fai poche domande perché io ho bisogno degli stimoli degli stimoli della platea quindi penso che possa essere soddisfatto sindaco lei è soddisfatto? molto anzi io approfitto in chiusura per ringraziare il professore Rodotale che sia stato con noi accettato il nostro invito e spero che sia stato una cosa utile e stimolante soprattutto per poi utilizzarlo come punto di partenza questa serie di giornate deve servire soprattutto per voler approfondire quali sono i propri diritti ma anche quali sono le strade le azioni che si possono intraprendere rispetto a un'amministrazione o rispetto a qualcosa di più grande che dovrebbe essere lo Stato ne approfitto per ringraziare il vice sindaco e tutti i collaboratori del comune perché hanno creduto tantissimo in queste giornate nei progetti che stanno portando avanti a partire dalla giornata della democrazia dell'anno scorso e tutte le deliberi che stanno portando avanti e questo è veramente un servizio pubblico quindi le persone che tutti i giorni ci lavorano penso che vadano insomma ringraziate in occasioni come queste e colgo anche io invece degli spunti che sono usciti perché tante volte alla fine le colpe tra virgolette le prendono la politica di prossimità di vicinanza perché quando ci si trova e visto che siamo in quel periodo insomma bisogna sempre parlarne informare penso che si parlava di informazione non sempre consapevole rispetto alle scelte di bilancio perché a certe volte bisogna dire sì bisogna destinare a noi citavo che magari non si sa abbiamo tolto praticamente tutto l'amianto dalle scuole quest'anno è l'ultima scuola e poi in periodi molti più ricchi non si pensava alla manutenzione delle scuole anche in termini energetici però poi quest'anno ci troviamo a avere 10 milioni in meno sul bilancio e 10 milioni sul bilancio che è colposto da 50% un po' meno del 50% per stipendi spese le dipendenti che quindi sono incomprimibili e il resto è gran parte welfare ed educativi poi alla fine si arriva sempre lì e quindi difficile conciliare i discorsi fatti oggi con le responsabilità il fatto di investire nelle nuove generazioni in servizi che siano veramente pubblici quando poi ti viene imposto di fare una visione ragionieristica allora quello che mi sento di dire stasera in una serata in cui sono ancora caldi questi temi il fatto di sapere a chi bisogna rivolgersi di chi sono le responsabilità e con chi tutti insieme dovremmo andare a farci sentire perché se i comuni si fanno carico dei servizi legati alle famiglie legati al sociale legati agli anziani legati ai diritti poi a qualcuno dovremmo chiedere il conto se no sono sempre se no viene sempre chiesto a noi che giustamente come dire ci incontrate per strada o sapete dove venirci a prendere a cui chiedete le risposte ma che noi abbiamo le risposte disponibili rispetto anche al nostro margine di libertà quindi mi sarebbe sapere come è andata a finire rispetto alla corte dei conti e alla risposta come dire data dal sindaco molto coraggiosa anche in termini costituzionali perché poi il sindaco il sindaco gli amministratori non sempre sono loro le responsabilità a firmare perché con l'ultimo decreto ovviamente ci sono competenze tecniche dirigenziali tecniche amministrative e quindi non sempre si può dare quegli atti di coraggio che si vorrebbero fare ma che poi non si riescono a portare fino in fondo e quindi quello che mi sento sempre di dire è facciamoci sentire sono battaglie giuste bisognerebbe come dire combattere per queste come si è fatto in passato e non sempre si hanno le possibilità e si va a chiedere conto a chi invece vorrebbe farlo ma non ha le possibilità e i governi insomma passano ma le amministrazioni le persone che ti incontrano tutti i giorni dovrebbero avere il sostegno dei cittadini non tante volte io dico come dire la critica senza sapere di chi stanno cioè dove stanno le responsabilità quindi io dico andiamoci tutti insieme a Roma che un pullman in più per chiedere queste cose penso che sia sempre insomma ben accetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti